Mi chiamo Cristiano, ho 18 anni. Ho studiato presso il CFP Zanardelli, ho frequentato il settore elettrico. Ho voluto scegliere questa scuola perché mi dava un'istruzione particolare sul settore che volevo fare nel futuro. Lavoro presso l'Elettro Gamma Castenedolo come impiantistica industriale e civile. Il CFP Zanardelli è stato utile trovare il lavoro perché sono riuscito comunque a darmi un'istruzione e avere delle basi per poter incominciare la passione. Mi ricordo un'esperienza che per me è come per molti della classe a contatto, l'esperienza per il concorso Gevis. Dovevamo fare l'impiantistica comunque su un tabellone di una casa al completo, luci, riscaldamento, climatizzazione. Ho fatto degli stage partendo dal secondo anno cambiando comunque varie ditte. Il primo anno l'ho fatto presso la ditta Magic Impianti Elettrici. Mi sono trovato bene, comunque non ho mai avuto problemi. Con questa esperienza di stage un ragazzo può capire come affrontare il lavoro dal vivo perché comunque in laboratorio fai determinate cose ma in modo ridotto. Quando tu affronti dei lavori dal vivo nella vera realtà è diverso, quindi può essere un aiuto per il ragazzo per capire veramente se gli piace anche il lavoro. Sì, consiglierei il CFP Zanardelli perché comunque dopo aver frequentato i 3-4 anni si riesce con una base per poter affrontare il lavoro.